Il parcheggio Villa Dante, in via Lucania 1, è situato proprio sotto la villa a due passi dal terminal dei bus, dalla fermata del tram e dal viale San Martino. Il parcheggio è accessibile al pubblico tutti i giorni, con tariffa oraria a partire da un euro e con una serie di abbonamenti super convenienti, gli stessi che potete trovare anche al parcheggio Cavallotti, situato nel cuore della città. Per maggiori informazioni consulta il sito www.atmmessinaspa.it Liberati anche tu dello stress del parcheggio e goditi le meraviglie della nostra città utilizzando i mezzi pubblici.